Signore e signore, dove siamo? Siamo a Las Vegas e questo è il Sima! Belli! Guarda un bello impianto le sue spensioni eh! Oh Carlotta, ti dicevo che ho preso fuori qualcosa, vedrai? Che succede? Arrivo io e finiscono, che culo di sciocco! Las Vegas, Sima Show, Racing Car, Rest Mode e poi la DCM! Brembo! Tutto bello eh! Tutto bellissimo, la Brembo! Tutto, tutto, tutto! Però secondo me la cosa più bella del Sima sono le scarpe della torta! Tutto, tutto! La cosa più bella? Ci sono una volta, non ho visto questo. È giusto, che è legno. E' legno, wow! Grazie a tutti Sì, guarda che spettacolo, guarda che spettacolo, l'hanno soprannominato a Mac 10 e qui ci sono le aziende, velocemente, le aziende che hanno contribuito a fare sto bomba di Mac, guarda che bellezza, boia. Adesso è Delorean, guarda che bellezza, guarda che bella ristorazione, mi sembra quasi bella, 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 che si fa? Se ne vince una, Carlotta? Alla domanda, si può montare un turbocompressore se c'è già un compressore volumetrico? La risposta è tutta qua. Un turbocompressore con volumetrico, 1.6 mini. Allora, Chevrolet 57, elettrificata, non so se si accelle combustibili, ora devo vedere un attimino, quindi idrogeno ma mi sembra tutto elettrico. Tutti i cavi che vedete arancioni sono i cavi dell'alta tensione, simpatici, vero? Sotto il culo, sotto i piedi. Ogni commento è superfluo sulle eventuali ripercussioni. Sotto il culo. Se è molto caldo per il brano. Ma è ancora... No, non... È ancora un po' ma... Sì, sì. guarda tutta, guarda che c'è poveraccio